È di più, molto di più. Osservi Gianfranco, una vita sulla strada, e senti che per lui non è solo un dormitorio. È di più, è una casa. Incroci lo sguardo di chi era disoccupato e vedi che per loro non è solo un mestiere. È di più, molto di più. E il riscatto. Ecco perché la tua firma per l'otto per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più, molto di più. È di più.